salve a tutti ragazzi sono sempre iomand benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo tornati qui con un nuovo episodio della carriera allenatore con la nostra inter signori mi raccomando spaccate il tasto del mi piace mi raccomando cerchiamo di arrivare a 2000 mi piace per questo episodio e se domani volete il prossimo in descrizione come sempre vi ricordo il link di onefootball e del mio profilo instagram onefootball scaricatela perché è gratuita instagram andatemi a seguire per restare aggiornati su tutto quanto quello che succede dal canale e vado a salutare gli ultimi due follower di oggi che sono freschi freschi gabriele di pilato 2005 e matteo basso 45 grazie ragazzi per avermi seguito detto questo nello scorso episodio mi avete lasciato tantissimi commenti per quanto riguarda la formazione mi avete detto che per i terzini che ho è sconsigliata la difesa 3 è ovvio ragazzi era questo il problema che si era creato vedrò vedrò ragazzi vedrò come potrà essere un inter camaleontica guardate un po possiamo possiamo fare veramente tante cose a seconda della squadra che andiamo a a sfidare detto questo è lo scambio per esiz gabriele jesus per molti si deve fare io non sono convintissimo perché non ho dopo un vero esterno sinistro di ruolo però ragazzi se si creano le possibilità economiche possiamo realmente provarci quando avrò dei soldi ragazzi quando avrò più soldi ci proverò perché per gabriele jesus mi chiedono tantissimo mentre per carama mi avete detto di era un 50 50 più o meno in molti mi hanno detto di non venderlo dato che io non voglio cederlo in prestito me lo tengo e lo faccio crescere ora ragazzi oggi episodio molto importante attenzione a non sottovalutare questo episodio perché preliminari di champions league contro l'austria vienna ma anche la prima partita di serie a quindi ragazzi oggi non si scherza duemila mi piace se volete subito un nuovo episodio andiamo dentro con la partita contro l'austria vienna siamo fuori casa quindi dobbiamo asfaltarli detto questo ragazzi ci andiamo con la formazione titolare con la quale abbiamo battuto la juventus in supercoppa italiana andiamo con questa formazione voglio vedere se sono in grado di gestirla meglio se non sarò in grado di gestirla in difesa magari con il centrocampo vedrò di fare dei miglioramenti ragazzi si ricomincia finalmente a respirare aria di champions league sicuramente la champions league ce la dobbiamo guadagnare perché dobbiamo passare appunto per i preliminari però questa è champions league ragazzi e non ho cambiato i numeri di maia ma allora me lo faccio apposta rushford 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 c'è perisic attenzione perisic davanti al portiere ivan perisic il destro para il portiere sterling che è partito servito da mauricardi sterling c'è in mezzo rushford è bella la palla di sterling rushford la stop e poi tira pensavo fosse entrata è fuori riccardi serve rushford che la gioca ausil attenzione usil c'è al mancino caldo mesut usil l'inter passa in vantaggio che gol vai ad abbracciare i compagni vai ad abbracciare i compagni ti ho detto usil col 34 signori che gol i cardi serve rushford che aspetta l'arrivo di mesut che se la mette meglio sul mancino poi cazza una bomba sotto all'incrocio e l'inter passa in vantaggio bene così mesut bene così gioco mario per rushford per osil almer in calcio d'angolo calcio d'angolo battuto da leon gorezca la mette in mezzo dove c'è i cardi mauricardi che anticipo di testa gran gol di mauricardi gran angolo di gorezca signori 2 a 0 per l'inter rivediamo qua gran angolo e gran anticipo di mauricardi signori imparabile veramente per il portiere questo colpo di testa no raga no non ci credo che azione che azione che azione abbiamo fatto rushford l'ha sbagliata che azione abbiamo fatto rushford l'ha sbagliata entra chiesa al posto di peris peccato raga avevamo fatto qualcosa di incredibile gorezca dalla bandiera ancora i cardi palo mamma mia ancora mauricardi che ci prova osil i cardi per pinamonti entrato al posto di rushford pinamonti mantiene pinamonti pinamonti entra col destro pinamonti pinamonti che fisico che gol per andrea pinamonti primo gol per lui in champions league l'ho appena sostituito e messo in campo al posto di rushford e subito e subito ripaga la fiducia così bello l'assist di cardi qui pinamonti poi mantiene fisicamente col destro a incrociare gran gol attenzione qui al vienna con leno 3 a 1 che gollaccio schifido mamma mia ragazzi finisce qui dunque ragazzi 3 a 1 per l'inter direi che comunque il passaggio del turno non è compromesso anche se abbiamo subito gol sicuramente era meglio non subirlo però ragazzi abbiamo dimostrato che questo modulo non ci fa schifo mi piace molto mi trovo bene per il momento quindi per ora resto così se vedrò che comunque bisognerà coprirsi difendersi leggermente di più posso tranquillamente cambiarlo il modulo offerta per il trasferimento di d'ambrosio ragazzi ancora il volsburg ancora il volsburg penso che lo venderemo sui 5 milioni e 500 il buon d'ambros andiamo a trattare lo venderemo perché visto il cambio di modulo c'è il rischio che ci sia una sovrapposizione di terzini ma in ogni caso anche se dovessimo tornare a 4 troverò il modo di far rifiattare canselo ecco senza problemi possiamo chiedere fino a 5 milioni e 5 io chiedo 5 milioni e 5 perfetto ragazzi d'ambrosio venduto a 5 milioni e mezzo ci entreranno sicuramente qualche milioncino in meno però almeno abbiamo stiamo sfoltendo la rosa andiamo alla partita anzi mi avete consigliato un giocatore ragazzi che non so sinceramente cosa ho fatto qui cosa ho cliccato non so sinceramente se avrò informazioni però le chiedo per Ezechiel Barco eccolo qua Ezechiel Barco è all'esterno sinistra 19 anni voglio informazioni voglio informazioni per Barco ragazzi perché se è già pronto si potrebbe fare un tentativo perché no perfetto sogno ci andiamo con questa formazione ho messo un bemba centrale di difesa nei 3 canselo a destra a sinistra Peresis talisca come COC il resto è tutto uguale andiamo in partita sempre sul pezzo forza Inter prima partita di campionato a San Siro ragazzi non possiamo fare brutte figure mi raccomando se non è canselo che è partito canselo rientra sul mancino canselo si fa vedere subito Leon Goretzka provazione di mezzo Rashford è passata è gol è gol dell'Inter è gol dell'Inter dopo 2 minuti e 30 Marcus Rashford cosa è successo cosa è successo ragazzi clamoroso quello che è successo la palla è entrata con Rashford che ci cade sopra ma io voglio rivedere il replay ragazzi la palla è entrata la palla è entrata attenzione a Felipe Anderson che danza sulla linea di fondo a Bubacar la mette in mezzo con un gol di tacco se non sbaglio qui è successo qualcosa Lino l'ha parata Felipe Anderson se n'è andato gol di tacco Bemba grande marcatura in mezzo all'aria davvero grande marcatura attenzione a Perisic Perisic la mette in mezzo dove c'è Rashford è passato in qualche modo attenzione Icardi provo una la palla c'era ancora l'Inter con canselo Goretzka non si fa vedere nessuno però c'è Talisca 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 ce l'ha sul mancino provo una finta Talisca se la mette sul destro Talisca il palo esterno il palo esterno per Talisca che stava veramente creando qualcosa di incredibile non ci posso credere non ci posso credere Gio Mario Rashford per Icardi di prima Icardi la protegge Mauro Icardi prova a giocare a Rashford è passato Marcus Rashford Marchetti la parata attenzione immobile il tiro palo 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 ragazzi Icardi per Talisca Talisca si è inserito Talisca col mancino Talisca Talisca un fenomeno un fenomeno ha un mancino che è qualcosa di illegale non può essere legale un mancino del genere cioè Talisca ogni volta che tira con quel suo piede crea qualcosa di incredibile qua ancora un assist di Icardi poi Talisca che tiene anche fisicamente fa un gol veramente ma veramente clamoroso faccio un cambio ragazzi perché ho bisogno di un po' più di fisico in questo momento in mezzo al campo fuori Gio Mario e debutta Oziakup con la maglia dell'Inter che ancora non aveva giocato rivediamo da qua il gol di Talisca imparabile per Marchetti occhio a Felipe Anderson niente due tiri e due gol due tiri e due gol non è possibile non è possibile però non è possibile che questi tirano due volte in tutta la partita e mi fanno due gol non è possibile dai non è possibile finisce qua due due un risultato immeritato veramente immeritato abbiamo dominato la partita in lungo e largo ma qui due tiri per la Lazio e due gol effettivamente è così però va bene raga mi sono piaciuti tantissimo i miei sicuramente si potrebbe quando si passa in vantaggio siamo verso la fine di passare di nuovo alla difesa 4 potrebbe essere in realtà un'idea interessante perché magari ci si copre leggermente di più potrebbe essere un Inter che cambia in questa maniera perfetto ragazzi possiamo andarci a giocare il ritorno della partita contro l'Austria-Vienna direi che facciamo un po' di turnover perfetto ragazzi con questa formazione molto ma molto turnover sempre sul pezzo forza Inter ma tanto turnover ma ragazzi sono abbastanza fiducioso vi dico proprio la verità Pina Monti cerca un buco per Mesut Ozil 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 traversa mamma mia ragazzi che sfortuna poi si è fatto male Gabriel probabilmente Dalbert la palla torna a Dalbert una finta di Dalbert e poi a calcio d'angolo per l'Inter ma Gabriel resta a terra e dovremmo fare un cambio sfortunatissimo qua Gabriel che aveva l'opportunità di mettersi in mostra speriamo non si sia fatto nulla ragazzi perché nel caso stia fuori tanto dovremmo intervenire sul mercato perché mi serve un altro attaccante Cancelo la mette in mezzo dove arriva Oziakup che stacca e l'Inter passa in vantaggio a San Siro 1-0 Inter non va a festeggiare nessuno ragazzi c'è solo Pina Monti con Oziakup che tristezza qui benissimo Cancelo che si è andato a prendere il pallone ha messo in mezzo un cross di tutto rispetto col mancino poi Oziakup lesto ad anticipare il difensore bene bene raga sono contento di questo vantaggio Caramò bella la palla per Sterling 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 col destro Almer in calcio d'angolo Oziakup la mette in mezzo dove c'è Pina Monti ragazzi Pina Monti Pina Monti che spettacolo Andrea Pina Monti signori che spettacolo Andrea Pina Monti gran gol gran stacco di testa ragazzi ricordiamoci che a 18 anni a 18 anni ha saltato in mezzo a due spettacolare spettacolare veramente Dalbert spingete tantissimo su quella faccia su quella fascia Oziakup per Chiesa Malmer che parata ha fatto incredibile Oziakup al centro dove c'è Gagliardini e c'è Gloria anche per Roberto Gagliardini 3 a 0 dunque per l'Inter che vince questa partita in maniera semplice ragazzi quando andiamo in attacco siamo devastanti veramente siamo devastanti sono stracontento anche di questa prestazione mi ha fatto tre prestazioni splendide quest'oggi purtroppo il pareggio con l'Alasio c'è un po' mi ha stupito in realtà non mi aspettavo un pareggio Oziakup per Foden che ha il numero 4 di Javier Zanetti Foden ci provo col mancino Foden e ormai segna non so perché ha il 4 di Javier Zanetti ragazzi lo cavo subito però ormai ormai firma il suo primo gol nella nuova stagione dunque finisce qua ragazzi 3-0 passiamo agevolmente il turno di Champions quindi ci possiamo aspettare dei gironi impegnativi non lo so ragazzi se abbiamo fatto i preliminari non penso saremo in seconda o terza fascia forse in terza fascia si non lo so ragazzi non so veramente cosa aspettarmi giocatore infortunato 8 settimane Gabriel ragazzi 8 settimane arriverei fino agli ultimi due giorni di mercato a noi non arrivano offerte ragazzi non arrivano offerte di qualsiasi tipo mi fa strana sta cosa Danilo D'Ambrosio l'abbiamo venduto 4 milioni va bene 2 partite spostate primo torneo 2 milioni però ragazzi non ci arrivano offerte nel prossimo episodio finiremo guardate loro lì D'Ambrosio con il numero 41 perché quel numero orrendo non lo so finiremo il calcio mercato però non abbiamo offerte io sinceramente senza offerte faccio davvero fatica a continuare a spostarmi delle partite senza offerte faccio veramente fatica paggio trasferimenti 41 milioni scusate ragazzi ma perché ma abbiamo veduto qualcuno ragazzi ma cos'è successo i giocatori ci sono tutti no scusate non è che mi hanno venduto un giocatore così a caso perché adesso con quei soldi Gabriel Jesus potrebbe arrivare allora innanzitutto sotto nei commenti ditemi cosa è successo io se non sbaglio ci ho guardato a inizio episodio e ne avevo 14 di milioni allora questi sono quelli che abbiamo comprato questi sono quelli che abbiamo ricevuto sul mercato i cardi li abbiamo bloccati ci sono tutti questi sul mercato non ci arrivano offerte però io non ho ricevuto nulla ragazzi Perdi c'è ancora con noi Cancelo è ancora con noi João Mario è ancora con noi e questi soldi da dove vengono non ne ho la più pallida idea 150 allora proviamo a guardare un attimo profitto guadagni abbonamenti sono gli abbonamenti cioè sono tutti i soldi di abbonamenti questi però no qua non abbiamo un più qualcosa vedete qua non abbiamo un più 40 non so forse sono gli abbonamenti ragazzi però qui per esempio vedete che non c'è un più 5,5 perché è stato venduto d'Ambrosio ma non c'è un più 44 biglietti partita vendita magliette forse è un bug non lo so allora nel prossimo episodio ricominceremo finiremo il calcio mercato e ricominceremo il campionato andiamo a vedere un attimo i nostri gironi anzi no i gironi di Champions li vediamo nel prossimo episodio io l'unico forse cambio che potrei acquisto che potrei fare è un esterno sinistro però di ruolo ragazzi Martial non consigliatemi Martial perché Martial secondo me nasce più come come attaccante più che come esterno sinistro Massimo alla sinistra quindi esterno sinistro no vorrei un esterno sinistro però di ruolo magari non so chi ci potrebbe essere fatemelo sapere sotto nei commenti per il momento non vado sul mercato per quanto riguarda l'attaccante perché Gabriel a questo punto lo confermo anche perché abbiamo anche Talisca magari che può girare come attaccante abbiamo anche Puskas nel peggiore dei casi ragazzi perché qui non mi arrivano offerte detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto sotto nei commenti tanti consigli per quanto riguarda questo modulo noi ci vediamo ad un prossimo video scaricate OneFootball dal link in descrizione seguitemi su Instagram sempre link in descrizione ci vediamo ad un prossimo video assolutamente ciao a tutti ragazzi